Matteo Lupini ha nominato il Torso a Lorenzo, non so, magari vuole lanciargli un messaggio, fargli una domanda. A Matteo, a quanto tu pesi? Visto il fisico, mi puoi dire dove si mangia bene? No, ma non sono scaramantico io con Matteo, per chiarità. Lupini, se vinciamo la prossima? Io non credo a queste cose, carta, non carta. Vieni a fare i gradoni con noi? Lui deve andare a fare il provino per Zedic, perché io penso, è il grande fratello pure.